Riparte la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nella città di Torre del Greco. Sarà dunque possibile il ritiro negli ecopoint previsti come di consueto dal Comune. Si parte giovedì 6 ottobre nell'area dei Molini Marzoli dalle 9 alle 14.30. La distribuzione proseguirà nei giorni e negli orari previsti fino al prossimo 5 novembre. La fornitura trimestrale del kit riguarda esclusivamente le utenze domestiche. Per il ritiro è sufficiente esibire la tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza Tari. Ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato Floriano Barone, rappresentanza dell'Associazione Delfino, che si occupa della distribuzione. Stiamo andando avanti con la distribuzione come abbiamo fatto anche nei mesi passati. Stiamo cercando di garantire un minimo di continuità. Mi dispiace per quello che è successo con la distribuzione che si sarebbe dovuta tenere a maggio, ma purtroppo tra i passaggi delle ditte e l'avvio delle nuove attività tutto è slittato dal mese di luglio. Come previsto riprendiamo ad ottobre per distribuire i kit per il prossimo trimestre. Dove sarà possibile ritirare i kit? Allora, come da calendario e secondo i soliti orari, dalle 9 di mattina fino alle 14.30 orario continuo, nei giorni dispari alla salle, nei giorni pari qui giù ai mulini. L'Associazione Delfino è l'associazione incaricata dalla ditta Velia proprio per occuparsi della distribuzione dei kit. Sì, colgo l'occasione anche per chiarire questa cosa perché molte volte subiamo anche aggressioni da parte degli utenti convinti che noi siamo o dipendenti comunali o che lavoriamo per la ditta che si occupa della raccolta. Noi siamo un'associazione di volontari incaricati dalla ditta addetta alla raccolta differenziata per fare la distribuzione e servizi al cittadino qui sul territorio. La nostra intenzione è quella di portare, quello che noi stiamo facendo ormai da un anno, di portare prima di tutto un po' di serenità e di educazione in un servizio dedicato ai cittadini. Poi dare un po' più di attenzione agli utenti perché noi oltre alla distribuzione ci occupiamo anche di fare un po' di feedback tra l'utente e il comune, l'utente e la ditta. Raccogliamo segnalazioni e anche a volte inefficienze che si verificano sul territorio. Quali sono le segnalazioni più ricorrenti? Le segnalazioni più ricorrenti sono, in primis, le busse subito finiscono. È la lamentela più comune. Poi capita sempre che ci segnalino cumuli di immondizia che non viene raccolta o che comunque si accumula, ma il più delle volte si tratta di cumuli abusivi che non vengono depositati nei punti previsti per la raccolta. Molti cittadini in passato si sono lamentati che c'erano anche file lunghe con anziani in fila sotto al sole in attesa di ritirare queste buste, quindi che i punti scelti per la distribuzione non fossero idonei. Ma il problema più che altro è che tutti corrono la prima settimana a prendersi il kit dell'immondizia. Noi distribuiamo nella prima settimana quasi 5.000 kit, nelle settimane successive scendono a 2.500 ogni settimana. Quindi questa corsa forse è nata di venersi a prendere il kit va soltanto a discapito dell'utente che deve aspettare in una giornata, pensa che ai mulini, noi in una sola giornata distribuiamo 800 kit. L'appello che faccio è venite con calma, la distribuzione dura un mese, le buste non finiscono come succedeva in precedenza perché viene gestito tutto in modo differente, quindi venite anche nelle settimane successive che state più tranquilli voi e noi. Ricordiamo che è previsto un kit per famiglia. È previsto un kit per nucleo familiare giustificato dal pagamento dell'Atari. Quindi noi distribuiamo soltanto a chi paga le tasse in sostanza. Il kit va a soddisfare il periodo di tre mesi, quindi tutti quelli che dicono perché non distribuire tutti i mesi, la costa andrebbe fatta tutti i mesi, per questioni di un po' di ordine pubblico, un po' di questione di tempo, viene accumulato il kit per tutto il trimestre. Quindi noi quando distribuiamo, distribuiamo buste che dovrebbero durare tre mesi. Ci sono ancora quelli che non ritirano il kit? Ci sono molte persone che non ritirano il kit. Devo dire però il numero degli utenti serviti sta aumentando da trimestre a trimestre. Quindi noi cerchiamo prima di tutto di puntare sull'informazione, dare più informazione possibile, passiamo le informazioni sui social e facciamo tutto quello che possiamo fare. Ci sono persone che magari anche per scelta loro preferiscono comprarle anziché farsi la fila e venire a ritirare. Grazie. Grazie. Grazie.